Ultimamente avete fatto così un focus, un'attenzione su un ragno che apparentemente sembra in uoco ma che in realtà così non è. Sì, anche il nome magari sembra abbastanza scherzoso. Abbiamo avuto un paio di segnalazioni, dopo la prima segnalazione subito se ne sono arrivate altre in riferimento a questo tipo di insetto, il ragno violino, e da lì ci siamo detti cosa fare nel momento in cui c'è questa segnalazione. Dato che comunque non siamo una ditta di disinfestazione, comunque cerchiamo di controllare il territorio, cerchiamo di dare informazioni comunque alla cittadinanza, ci è sembrato doveroso dire alla popolazione comunque che c'era questo tipo di problematica. Non volevamo creare allarmismi come sembra che ci sia stato, ma di tenere magari sotto controllo nel momento in cui magari si viene morsi da questo tipo di insetto e di non lasciarlo decadere e di lasciar perdere, ma comunque tenere sotto controllo e magari cercare di andare ad utilizzare magari dei prodotti oppure direttamente ad andare per un soccorso per cercare di risolvere il problema. Ci sono state anche testimonianze che sono arrivate di persone che hanno veramente avuto a che fare con un morso di questo ragnetto che però procura seri problemi. Sì, no, è per questo, anche perché a causa di questo posto, dopo sono arrivate queste diverse testimonianze e questo che attesta che comunque questo morso di questo insetto può creare problemi. Non volevamo creare assolutamente questo tipo di problematica che si sta sviluppando adesso, ma a causa comunque di questo morso che potrebbe creare comunque dei problemi, in pochissimi comunque casi. E da lì è nato un po' il tutto. Un po' di precauzione, un po' di pulizia domestica possono prevenire questi problemi? Sì, basta comunque andare ad utilizzare l'aspirapolvere e andare a cercare un moritorio in maniera migliore comunque le varie ragnette che ci possono essere e la pulizia, sì, è una delle peculiarità di questo tipo di interventi di disinfestazione.